Svolta nei lavori di manutenzione straordinaria sulla strada regionale 452 che collega Fano a Gubbio. Al tavolo tecnico andato in scena ieri alla Confcommercio di Pesaro era presente l'assessore Francesco Baldelli che ha ribadito l'importanza dell'intervento per la messa in sicurezza di una tratta stradale interregionale e quotidianamente trafficata. Con ANAS in una sola settimana, quella che è appena trascorso, abbiamo gestito le complessità. Le complessità di un'arteria fondamentale come la Flaminia e il passo della Contessa verso l'Umbria, verso Gubbio e quindi verso le 45, verso Roma in maniera molto attenta e puntuale. Per questo ringrazio ANAS perché ha dato risposta concreta a tutto il pacchetto di richieste presentate dalla regione Marche. Questa arteria è fondamentale tanto che nel master plan delle infrastrutture stradali approvato più di un anno fa dalla nostra giunta per la regione Marche quell'arteria è considerata un cardine fondamentale della maglia stradale marchigiana. I lavori sulla strada della Contessa avevano attirato l'attenzione di Confcommercio Marche Nord che in collaborazione con Confcommercio Perugia e Gubbio si è attivata con le istituzioni marchigiane per ridurre i tempi della realizzazione dell'opera ed evitare i gravi danni per le imprese del turismo e del commercio. Una chiusura che ovviamente porterà danni economici alle imprese della nostra provincia, particolarmente di Fano, Marotta ma di tutta la via Flaminia. La regione Marche non era stata coinvolta minimamente in questo progetto di chiusura di cui si parlava da tempo addirittura lavori di 12-18 mesi, sarebbe stato un dramma enorme. L'assessore Baldelli si è subito interfacciato con l'ANAS a livello nazionale. Le richieste che riguardano la diminuzione dei tempi dei lavori e anche un posticipo dell'inizio della chiusura della Contessa per consentire almeno alle imprese di fare la Pasqua. Prezioso l'intervento di ANAS che ha riorganizzato il suo cronoprogramma e dimezzato i tempi di lavoro sulla viadotto Galleria al confine con l'Umbria. Inoltre nei prossimi piani industriali prevede di investire 60 milioni per rigenerare l'intera arteria fino a Fano. I lavori per il rifacimento del viadotto partiranno nel prossimo mese di aprile con la demolizione dell'impalcato. A seguire la posa di una nuova struttura in acciaio, la realizzazione della pavimentazione e delle barriere di sicurezza. Contraendo le lavorazioni con migliorie tecnologiche e con l'incremento dei turni di lavoro riusciamo a contenere i tempi di programma lavori restituendo la percorribilità prima del prossimo Natale. La viabilità subirà dei cambiamenti durante i lavori. I maggiori tempi di percorrenza sommano 15 minuti per i veicoli leggeri e 30 per quelli pesanti. Inoltre, come annunciato al tavolo tecnico, andato in scena ieri verrà messo in campo un ristoro per le famiglie degli studenti.